Ciao a tutti amici, sono io, Julia War, e oggi sono qui per fare una nuova puntata edicola. Allora ragazzi, oggi vedremo insieme i mollosi scrocchia putti. Sarebbero appunto questo nuovo tipo di pasta putti con all'interno delle perline, quindi poi mescolando la pasta e quindi schiacciandola dovrebbe appunto produrre questo suono particolare, appunto scrocchia, dovrebbe intendere quello. Allora, il prezzo è di 3,50 euro, e in totale sono 6 confezioni, Sì, sono 6 in totale i colori che si possono trovare con le perline. Ok, allora io direi di iniziare subito, partendo dalla prima bustina. Ok, da dove si apre? Ok. Allora ragazzi, la prima che abbiamo trovato è questa pasta viola, glitterata, e le perline verdi. All'interno, tra l'altro, c'è anche un booklet. Vediamo. Ci sono diverse informazioni sulle perle. Poi ci mostra, appunto, i sei che possiamo trovare. In questo caso noi abbiamo trovato questo qui. Ok. Ecco qui, appunto, la pasta. E qui ci sono le perline, che io direi di mettere subito. Ok, ho aggiunto un po' di perline, però non le ho messe tutte, perché altrimenti so che, sono sicura che, se ne sarebbero pian piano venute, quindi preferisco metterne di meno. Eccolo qui, come vedete, è molto, molto carino. Ok, io direi di tenerla fuori, tenerle tutte fuori, in modo tale da creare una piccola montagnetta di pasta. Ok, passiamo all'altra bustina. Vediamo. Allora, abbiamo trovato questo colore, vedete, rosa, con le... queste perline azzurrie. E in questo caso abbiamo trovato, appunto, lo sky pink. Questo qui. Allora, eccolo qua. Il colore è molto bello. Tra l'altro ci sono anche pochi glitter. E... Guardate quanto si allunga. È incredibile. Quasi mi dispiace dover mettere le perline, perché già così è bellissimo, è un colore fantastico. Però mettiamogliene un po'. Ok, ragazzi, questa volta le ho messe tutte. e penso che farò lo stesso per questo. E come vedete, è ancora più bello adesso. È fantastico. Poi fa una specie di rumorino, proprio quello di scrocchiare, scrocchiare. Non so come definirlo. Comunque, è fantastico. Ok, eccoli qui. Direi di passare a un'altra bustina. Vediamo, vediamo... Abbiamo trovato lo stesso di prima? Sì, abbiamo trovato questo. Quindi, primo doppione. Passiamo a un'altra bustina, perché è un po' inutile vedere lo stesso che abbiamo già trovato. vediamo... Vediamo... Ok, allora, abbiamo trovato questo rosso con le perline bianche. Molto, molto carino. E sarebbe questo qui, Red Show. Eccolo qui. Tra l'altro è super glitterato. Glitterato. E io direi di mettere le perline. Eccolo qui. Il rosso e il bianco insieme sono molto, molto carini. È fantastico. Anche questo colore. Ok, passiamo a un'altra bustina. Vediamo... Allora, abbiamo trovato... Allora, abbiamo trovato la pasta verde con le perline arancioni. Anche questa pasta, molto glitterata. E direi di mettere subito le perline. Eccolo qui. Anche questo... Oddio no! Sono cadute diverse perline. Ok, ecco qui. Eccolo qui con le perline arancioni. E mettiamolo insieme agli altri. Passiamo a un'altra bustina. Vediamo, vediamo. Abbiamo trovato... Di nuovo quello verde con le perline arancioni. Un altro doppione. Vediamo. Allora, abbiamo trovato la pasta azzurra. Senza perline. Perché senza perline? No, vabbè. Ma che... Perché non ci sono le perline? Vabbè, ragazzi. Abbiamo trovato una pasta putti senza perline. Va bene. Solo con i glitter. Pazienza. Ok. Peccato. Il colore è bellissimo comunque. Però erano così belli con tutte queste perline. Vabbè, pazienza. Andiamo avanti. Vediamo. Allora... Ah, abbiamo trovato un altro rosa come questo. Poi... Io ovviamente non ve li faccio vedere perché se li abbiamo già trovati è un po' inutile. Vediamo. Allora, ne abbiamo trovato sì, uno diverso che sarebbe uno... Questo giallo con le perline fucsia che si chiama... che si chiama Sweet Sunny. Eccolo qui, appunto. Molto, molto bello questo colore. E adesso mettiamo le perline. Eccola qui. Bene, ragazze. Adesso che li abbiamo trovati tutti anche se questo qui purtroppo ci è capitato senza perline io direi di mischiarli tutti. Tra l'altro questi si stavano già un po' mischiando. Allora, quindi... Oddio, un po' mi dispiace. Vabbè, allora mettiamoli uno sopra l'altro. Ok. così e così e poi questo qui che è senza perline sopra oddio adesso oh mio Dio si creerà un mega mega una mega pasta oddio però è bella guardate tutte le le perline tutte colorate tutte colorate è proprio bella eccola qui multicolor molto molto carina mi piace tantissimo davvero che bella ragazzi davvero vi consiglio di trovarli tutti magari anche tutti con le perline in modo tale da creare una cosa del genere adesso si stanno un po' mischiando però voi cercate di non mischiarli troppo perché davvero sono carinissimi è tipo un'esplosione di colori bene adesso passiamo i saluti se questo vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi al mio canale di passare anche dei miei profili instagram dei quali lascio qua sotto nella descrizione i link e vi ricordo inoltre di mettere tanti di lasciare tanti cuori e inoltre vi ricordo di seguire anche la mia nuova pagina di facebook che si chiama giulia guerra 03 della quale lascio sempre nella descrizione il link bene noi ci vediamo alla prossima ciao